Ciao a tutti, sono Federico Posi Pollini e sono qui per la seconda volta, nel senso che l'anno scorso sono venuto qui in veste di musicista ma che parlava degli schianti su una band molto importante che ha fatto un periodo storico che è la Bologna Rock e questa volta invece, questa sera, sarò in versione invece da cantautorale, nel senso che il mio progetto è un progetto molto rock, io ho fatto questo disco che si chiama Nero, registrato tra Bologna e San Francisco, cercando proprio di riprodurre un suono che avevo nella mia testa da tanto tempo, un po' una sorta di omaggio che volevo fare ai classici del rock, le band che mi hanno avvicinato alla musica e in questa sera invece sarò in versione acustica perché comunque il posto si presta, una versione più intima, dove cercherò di riproporre appunto alcuni brani di Nero che è appunto l'ultimo album e con alcune novità, con delle cover che farò appunto durante lo spettacolo, avrò un ospite, posso dirlo, Cesare dei Negrito, un amico che abita qua vicino ad Arezzo, ci siamo sentiti stamattina, mi ha detto che sarebbe venuto volentieri, ho detto dai a questo punto portati dietro uno strumento e che facciamo una cosa insieme, quindi suoneremo un brano insieme e poi ci sarà Luca che è la persona che diciamo che è stato il mio tramite, la persona che mi ha fatto conoscere questo luogo in questo periodo che ci sono appunto delle manifestazioni e Sansepolcro mi era capitato di visitarla in un'altra veste, questa volta appunto in versione musicale. Grazie.